Il nuovo facile, facile a 1. Unità 4. Il lavoro di Liang. Io lavoro in un ristorante cinese a Pesaro, in piazza del popolo. Faccio il cameriere. Lavoro tutti i giorni, la mattina dalle 10 alle 14 e la sera dalle 17 alle 23. Il lunedì sono libero. Mi piace molto l'orario di lavoro perché la mattina dormo fino alle 9 e la sera dopo il lavoro esco con gli amici. Qualche volta il mio lavoro è un po' pesante, ma mi piace perché sto sempre con tante persone e prendo 900 euro al mese.